A Matera, il quarto ad uno annuale degli Edgeriders Lot4, strettamente connessa al progetto a Monasteri, l'iniziativa è organizzata dalla rete degli Edgeriders in collaborazione con Matera 2019. La rete Edgeriders è una comunità che nasce come think tank diffuso di cittadini esperti in varie materie, a supporto del Consiglio d'Europa per le politiche giovanili europee. Punto di riferimento fondamentale rimane all'interno dei rioni sassi di Matera. Il complesso del Casale, un vero e proprio non pellegrinaggio, l'evento Lot4, sarà l'occasione per mettere a disposizione della comunità gli strumenti e le esperienze utili per costruire la Monasteri sulla base dell'intelligenza collettiva degli innovatori. Che cosa rappresenta Lot4, tra l'altro ora che Matera è capitale europea della cultura, per il 2019? Lot4 vuol dire living on the edge, quindi è una conferenza che dice le persone che stanno al margine, le persone che stanno provando delle cose nuove, le persone che non sono inquadrate, che cosa stanno facendo e si confrontano e discutono tra loro. Matera è un po' questo, c'è una città che vive al margine, è una città che è stata marginalizzata per molto tempo, adesso si sta spostando, sta facendo un percorso diverso, ma rivendicando la sua natura strana, marginale, particolare e infatti anche il programma culturale con cui diventa capitale europea della cultura è un programma molto coraggioso, molto forward thinking e quindi questa conferenza a noi sembra appropriato farlo a Matera, dopodiché come la città la userà dipende molto dalla città, noi abbiamo invitato tutti, abbiamo cercato di essere molto accoglienti anche in termini dell'uso della lingua, noi siamo una comunità che parla principalmente inglese, però abbiamo fatto uno sforzo per inserire sessioni in italiano, abbiamo costruito un appuntamento pubblico che facciamo fuori da qui, dalla Monastery, lo facciamo a Palazzo Lanfranchi in cui alcune delle persone che vengono per living on the edge, tra cui il più famoso è senz'altro Fabrizio Barca, l'ex ministro, invece ci spostiamo nel centro della città e facciamo una cosa totalmente in italiano, sempre sul tema della stewardship, quindi noi abbiamo cercato di aprire molte porte e adesso tocca a voi attraversarle. Vivere al limite significa essere cittadini europei? Credo che si vada molto al di là di fatto, noi siamo quasi tutti europei, ma non tutti, ci sono anche alcuni egiziani, ci sono alcuni neozelandesi, ci sono alcuni americani, ci sono alcuni europei, ma non dell'Unione Europea, per esempio armeni o georgiani o montenegrini, in realtà queste persone hanno molti in comune l'unico e le altre, abbiamo scoperto che ciascuno nel suo modo però c'è un filo conduttore che collega le persone e i gruppi che cercano di fare delle cose strane, delle cose controcorrente, delle cose marginali, quindi noi non cerchiamo necessariamente di essere europei, però di fatto questo filo conduttore fa sì che la nostra comunità sia molto molto globale e questo ci rende, di fatto poi nasciamo in Europa, nasciamo da un progetto del Consiglio d'Europa che si chiamava anche lui Edge Riders due anni fa, di fatto ci rende un'infrastruttura europea quasi già fatta, cioè materialmente quando il gruppo di Edge Riders che è la comunità che fa Living on the Edge si è alleata con Matera, il nostro compito era di presidiare la dimensione europea, perché in effetti noi siamo in 30-40 paesi, ci va abbastanza da solo, cioè non c'è molto bisogno, abbiamo gente a Berlino, abbiamo gente a Copenaghen, abbiamo gente a Amsterdam, abbiamo gente dappertutto e quindi è stata abbastanza facile usare questa cosa come pezzo di, come raccordo tra Matera e l'Europa. La rete è la community, in particolare anche un workshop nel quale Alberto Cottica giocherà un ruolo importante. Io sono appassionato di reti, di reti proprio in senso matematico, di scienza delle reti, ormai è quasi un'ossessione, ci lavoro da tanto tempo e questa cosa l'ho usata anche qui a Matera, perché una delle cose che abbiamo fatto nel percorso di candidatura è stata una comunità online, forse vi ricorderete, lanciata nella primavera del 2013. Questa comunità può essere vista come una rete e quindi abbiamo scritto un software che costruisce la mappa delle relazioni e te la fa vedere nella comunità online di Matera 2019. Di fatto questo software l'abbiamo usato per questo, ma possiamo usarlo per tante altre cose, possiamo usarlo per la stessa Edge Riders che ha un'altra comunità online e per tante altre cose ancora. In questo workshop che terrò, che durerà poi solo un'ora, una roba piccola, facile, vorrei parlare di questo software, farlo vedere, insegnare alle persone a usarlo, in modo che tutti possiamo essere un po' scienziati delle reti e imparare a leggere le reti sociali, a capire che cosa ci dicono questi grafici colorati su ciò che sta succedendo tra le persone. Ci spieghi cos'è Lot4? Lot4 ovviamente è l'abbreviativo di Living on the Edge 4, perché siamo alla quarta edizione, la prima a cui partecipo io. Diciamo che si sviluppa tutto sulla community Edge Riders, quindi sul web c'è gente che si organizza, c'è gente che propone temi, quelli che vengono maggiormente recepiti come interessanti si sviluppano e poi diventano una conferenza. Questa conferenza è la conferenza offline che Edge Riders organizza una volta all'anno e diciamo che quest'anno, come lo scorso anno, è stata scelta Matera perché appunto a Monastery è un progetto di Edge Riders che è stato fatto in collaborazione con il comitato ed ha portato secondo me tante innovazioni interessanti a Matera. Per cui questa loro apertura, l'apertura di Edge Riders, di cui faccio parte, nel senso che poi avendoli conosciuti qui a Matera ho deciso di entrare nella community, è qualcosa che sta portando a Matera un sacco di innovazioni, che magari non tutti hanno ancora recepito ma che secondo me è la strada verso l'open future che è lo slogan della candidatura. Quindi Lot4, Edge Riders, a Monastery sono tutti aspetti che si legano proprio a questa apertura al futuro? Assolutamente sì, sono tutti aspetti che, diciamo, Edge Riders è il contenitore, a Monastery e Lot4 sono due progetti all'interno di questo contenitore ma ce ne sono tantissimi altri, molto interessanti e che guardano soprattutto al futuro con la parola open, la parola open è anche la parola fondamentale perché qui si parla in open source, si parla di open data ed è la parola che cambierà il futuro. The Monastery idea was actually born on one of these Edge Riders conferences at Lotta 1 and it's been, it was developing for two years so two years before the Monastery Matera opened its doors there were three Edge Riders conferences and the Monastery was discussed and the whole idea was developed. A Monastery is an experiment to develop a co-living and co-working space for people who would like to do social outreach, social innovation working with the community in exchange for, not really for money but for shelter and food. A frame of Europe in Matera? Yes, I think the reason why the Monastery was welcomed in Matera was because we were all from all different parts of Europe and we all have different expertise so we brought our European-ness and we brought our different expertise to the city. Which prospectives in future? We are talking about that this is one of the topics of the Edge Riders conference how the Monastery should continue The Monastery Matera experience was beautiful and we are incredibly happy to be here and also we are incredibly happy that the city just won the Cultural Capital of Europe title for 2019 So, of course, to a certain extent we hope that we will be part of the city developing the projects towards 2019 and to be the capital. We also have other offers from other cities and this is something that we need to decide whether the Monastery model is developed enough to offer it to other cities or whether we need to focus more on developing our ideas and their practices. Where are you from? I'm from Hungary, but I live in Switzerland. What do you think about Matera as a European cultural capital? I think this is a unique, a very unique place and it is a very interesting take on cultural capital of Europe because it's cultural in this deep sense. It's not that it has three opera houses and 500 museums. It's cultural in the sense of like with a very deep history and a very deep relationship to the place. Matera, is European enough? Yes. So there's several things that could be quite difficult. and there's of course keeping the show running, keeping the website up. That's my job in the Edgewriters enterprise for the last nearly two years now. And obviously I have to keep the show running, keep the website up even if it's not paying at the moment. So that's one of the aspects of being a steward of that website thing. and then there's, for developing that website and getting it extended, there's always the question how to do it economically. We rely on open source software, so this is a benefit of course because we don't have to pay for the software or for renting it. but also we try to pay back by, if we do an extension, by putting it online and releasing it into open source again. The experience of a Monastery, a lot for Matera, is the European Capital of Culture in 2019. Well, luckily we became part of the project Matera 2019, some years ago already, when the idea of a Monastery was born. And we wanted to provide a space for social innovators, hackers and people who are occupied by the idea of changing the quality and the way of life of mostly young but also old people, those who struggle with finding the best solutions within the traditional economical and social political system. and so Matera gave us this opportunity and this infrastructure to host creatives from all around Europe but also from United States and other countries outside of Europe to conduct their projects here on site and then to treat it as a prototype. So after this six months of experimentation we can go forward with the whole project. So hopefully now, as Matera won the beat, we wish to continue this cooperation and improve the project in a way that it would serve the best community. All this Monastery under a different point of view? Well, a Monastery is non-Monastery. So we occupy a building that used to be a Monastery, but we are searching for an alternative way of organizing the social, economical and whatever aspects of living there are. so we kind of rely on some basic principles of what Monastery used to be, but then we adapted to the modern circumstances. Where are you from? I'm from Poland. What do you think about Matera as European cultural capital? Well, I used to live in a place in Poland which was also a candidate a couple of years ago and we lost the beat and it was somehow the same situation because we were the Matera of Poland. And I'm incredibly happy that Commission this time did such a brave and important decision. I used to live also in the south of Italy so I know how important it is for southern Italians to get back to their... find again the confidence and the energy to do the things themselves because I know that... well, many things have been decided by people who were not from here and the political situation in the south is very difficult so I hope this is a sign and this is a moment where things will change and the citizens will actually realize how important and powerful and how many possibilities there are here. What kind of support from a Monastery? Well, we're definitely bringing you the international community and at the moment, during LOTE4 we will be having different sessions about a Monastery searching for criticism from the locals and then trying to find a way in which a Monastery would serve the best the needs of Matera. so we will try to look for the projects that are the most adequate in the context of Matera and then put together Italian, southern Italian, activists with foreign activists who have certain knowledge in order to create great projects. One last thing. What does Alberto Cottica expect from Matera now that Matera is the capital European culture? I expect that you are at the height and this means to continue on the road that has brought, to my opinion, to my opinion, to my opinion is that of not delegating too much. The victory of Matera, as I was perceived, and I was a little bit there, I was in Rome, it was a story that I know quite well, it was really the victory of the citizens. then, then, we, the committee of Matera 2019, the director, the artistically bravissimo, all these brave men, all these brave, all these brave, all those brave of the others, all those of Lecce, all those of Cagliari, all those of Siena, so we have done the best ever, but we could not get this result without the city in full. And behind it doesn't mean that, behind it means to be brave, it means to be a fair. All this is a lot of success in Matera, from 2013 in the past, and almost almost ha happened, mai. Ora, se la città perde questa spinta, secondo me ha perso la magia e quindi poi il comitato farà il possibile, la fondazione farà il possibile, la città, il sindaco, la regione, chi volete, però alla fine sarà semplicemente un'altra roba pubblica fatta più o meno bene, ma sappiamo tutti che non è lì l'azione, l'azione è se le persone fanno, si prendono sulle spalle la responsabilità e anche la gioia di fare questa cosa e la fanno senza troppe pippe, senza troppo chiedere permesso a nessuno, tanto avete capito benissimo, sapete benissimo quali sono le cose che funzionano e quelle che non funzionano, non c'è bisogno di molte spiegazioni, quasi tutto quello che fate andrà bene automaticamente, l'importante è non fermarsi.